Genova, Roma, Genova, car tablet dedicato Kia Sportage, come vedete tutto integrato con funzione cd, dvd e poi ovviamente recupero comandi al volante, retrocamera originale, partiamo subito essendo il top di gamma partiamo dal dub abbassiamo andiamo in via voce bluetooth streaming musicale via voce bluetooth gestione audio video tramite usb poi ovviamente abbiamo quello che paga il terzo di sopra deve pagare anche i due terzo sottostanti perché noi sottostanti stazioni memorizzabili e poi passiamo alla sezione android www.audiritt.it www.audiritt.it ricordiamo che per chiudere tutte le app si fa così si torna indietro e si cancella tutto rendiamo il tablet veloce nello stesso tempo per chiudere tutta la ram qui c'è il simbolo chiusura ram facciamo così e abbiamo pulito tutta la ram retrocamera originale iniziamo 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 iniziamo